Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e prima di iniziare voglio ringraziare Alessandro Pettenuzzo di TZ Sim Project perché mi ha contattato un paio di giorni fa, ve l'avevo anticipato che c'è una sorpresina ragazzi, proprio chi mi segue, che ha seguito le mie gare strampalate su Automobilista 2 ho detto c'è una sorpresina, vi avevo anticipato perché appunto Alessandro mi ha contattato perché mi ha detto guarda Fabrizio ti voglio mandare qualcosa allora non voglio anticiparlo subito perché voglio che faccia tu una recensione, ora Alessandro ha capito che tipo sono io perché mi segui sul canale e ha capito che io sono uno che insomma non sono un tecnico, non ho tutte queste conoscenze diciamo tecniche di certe periferiche ma sono uno che cerca di essere il più onesto possibile facendo vedere le emozioni che certe periferiche possono offrire all'utente finale quindi siccome questa mia tipologia di recensire i prodotti gli piace ho detto guarda Fabrizio te lo mando ma proprio perché voglio una valutazione onesta di un giocatore lo aggiungo io medio perché lui è stato molto rispettoso però giocatore medio, l'utente medio, l'utente finale medio non troppo tecnico ma neanche troppo scarso chiamiamo così proprio per avere le impressioni del giocatore che non abbia troppe conoscenze tecniche ma proprio per quelle che sono sensazioni di feeling che questa periferica può offrire Alessandro mi ha mandato la base direct drive della Camus ragazzi che vuol far concorrenza con i suoi prezzi competitivi si è l'azienda cinese che fa Camus e mi ha mandato la base l'unica da 15 Nm poi ci sarà anche quella da 8 mi anticipava e io sono felicissimo, ho tre colli qua, sono tre colli, c'è una base ovviamente per adattarla alla mia postazione perché Alessandro ha pensato anche a questo ovviamente ed in più c'è una corona che adesso vedremo, quindi adesso devo procedere all'unboxing questo video non è sponsorizzato, non è sponsorizzato nel senso che io questo qua lo provo, se mi piace io lo pago se me lo voglio tenere e non è una tentata vendita perché gli ho detto non c'ho una lira però non è sponsorizzato perché poi questo qua è finita la recensione e glielo devo restituire quindi devo fare attenzione a non smembrare troppo i cartoni perché poi li devo riutilizzare poi devo rileggere bene 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 tutti i passaggi mi ha spiegato Alessandro è stato veramente a livello di professionalità Alessandro è quello che mi ha fatto vedere tu in aula e ragazzi non mi ha venduto niente, cioè non mi ha venduto niente a disposizione molto disponibile su whatsapp per i miei dubbi e manco ho ricevuto il volante ce l'ho ricevuto adesso, le premesse con la TZ Sim Project sono ottime perché sono onesto, io Alessandro lo conosco da cinque giorni ragazzi non è che mi ha contattato lui come vi dicevo allora adesso apriamo, facciamo attenzione come dicevo a non smembrare i cartoni perché, allora questa qui, eccola qua questa è la scatola della corona ragazzi allora, subito 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 però ha il suo peso ovviamente con tutta l'onestà di questo mondo non è il design che mi fa impazzire di più però intanto c'è il suo peso ragazzi non so quanto pesa però forse un bel chiletto e mezzo ce l'avrà penso che la prima cosa sono i pulsanti che non sono quelli a livello di design di ultima generazione o che sono accattivanti però devo dire la verità che la consistenza del volante è comunque impressionante per quanto riguarda le marce riguarda che sia magnetico il feeling è caruccio, mi piace la gomma questa qui utilizzata per l'impugnatura ovviamente bisogna utilizzare dei guanti però così di prima chitto mi sembra di buona qualità però questa qui problematica che se ti sudano le mani poi ti fa le pallette di colla e poi ci sono questi encoder no, gli encoder ho la sensazione che bisogna fare attenzione a che tipo di utilizzo ci fa perché è molto sensibile anche se si sentono gli scattini ovviamente e poi ci sono gli switch come si chiamano questo invece è un selettore ma devo dire che con tutta onestà la fattura a livello di materiale mi pare veramente buona soprattutto la parte del quick release vedo che ci sono gli spinotti di aggancio con la base che sono veramente belli che pronunciati e questo sicuramente conferisce una sicurezza a livello probabilmente di appoggio per quanto riguarda le marce mi sembra pure che siano di buona fattura l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la decisione di utilizzare questo tipo di pulsante questi selettori che comunque secondo me conferiscono meno design di quello che meriterebbe questo tipo di volante però devo dire che il peso comunque dà questa certa sicurezza a livello di come si dice di presenza fisica della ruota quindi non male anche se il design in tutta anestà non è che mi fa impazzire tanto però stiamo parlando di gustibus quindi di gusti personali tali rimangono bene abbiamo visto la corona adesso vediamo il pezzo forte la base eccola qua cioè pesa comunque ragazzi non è che non andiamo subito a prendere oh mamma mia sì sì ragazzi pesa mamma mia allora beh dicono che la base base economica marca miseria ragazzi allora ovviamente istintivamente devo dire la verità che sono sorpreso positivamente dall'insieme della qualità del materiale che è stato utilizzato cioè veramente si sente che è massiccio non è non è qualcosa di cheap ci sono dietro tutti i collegamenti un massiccio alimentatore ragazzi mi forniscono pure l'adattatore per la presa europea perché la presa è quella americana allora ragazzi le conclusioni per quanto riguarda questo cammus delle prime impressioni di questo unboxing è che sicuramente sono sorpreso positivamente da un lato e negativamente dall'altro cioè positivamente per quanto riguarda la qualità del materiale perché senza ombra di dubbio posso dirlo tra il peso la qualità visivamente anche il design perché no è molto è fatto molto bene devo dire la verità cioè c'è un peso porca miseria io dicevo lì facevo lo sborone non pesa invece pesa ma ma sti tasti pulsanti pulsanti ma perché ma ti sta impuntando ma sì perché i tasti comunque nella guida sono importanti anche il volante probabilmente quando aggiorneranno faranno la la versione meno potente spero che possano rettificare questa cosa qua e soprattutto utilizzare dei tasti moderni c'è ormai l'rgb le luci le cose le cose fighe allora e qua mi potreste dire ma fabbri questi vogliono competere con i grandi e fare dei prezzi abbordabili ma scusate ragazzi ma se una base di questa comunque qualitativamente se io gli devo mettere 20 euro in più di tasti luminosi o tasti super fichi e soprattutto li tolgo da qui magari ci risparmio pure a mettere cioè concentrati sulla corona metti 4-5 tasti in più sulla corona e basta cioè non ha non ha senso metterli qua non ha proprio senso però devo dire la verità che sono comunque impressionato ragazzi non vedo l'ora di montarla e vedere quale sarà il feeling quindi non è un giudizio né finale né un è solo una critica costruttiva che questa cosa qua potevano comunque evitarla secondo me e potevano progettare questo tipo di corona in modo diverso quindi ragazzi se questo unboxing un po' particolare sorprendente vi è piaciuto lasciate un commento un like iscrivetevi al canale perché poi ci saranno ovviamente le prove perché farò più video possibili per poter testare questo volante qui l'unica cosa tecnica che vi ho detto che è un 15 Nm poi il resto come funziona non mi interessa voglio solo sapere quelle che saranno le emozioni che riuscirà a restituirmi quindi ragazzi come da Fabrice è tutto un abbraccio ciao